I termini di problema sono chiari, forse è bene spiegare i telespettori. La legge Gasparri dice una cosa semplicissima, chi è titolare del controllo di un'azienda telefonica come la Telecom, che ha del mercato delle TLC, delle telecomunicazioni, più del 40%, non può avere il controllo di un'azienda di televisione che ha più del 10% di quello che viene chiamato il sistema integrato delle comunicazioni, ovvero del bacino dei ricavi del mondo televisivo. Questo è proibito dalla legge. In questo momento siamo a metà del guado, perché Vivendi ha un sostanziale controllo di Telecom ed è molto vicino a una quota di un'opostile, obbligatoria per di più, su Mediaset. Quindi la cosa mi sembra abbastanza impasticciata. Bene ha fatto a Gcom a dare un'avvertenza e a mio avviso il governo. Io ricordo la questione Parmalat e l'Actalis, dove noi a spese dei contribuenti abbiamo messo a posto Parmalat, perché c'è postata molto in termini di cittadini italiani e poi ce la sono trovati a cedere all'Actalis. Devo purtroppo...